Allora, buonasera, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate a questo appuntamento crime, ormai imperdibile. Allora, oggi è un crime un pochino diverso, perché non vi racconterò di una persona sola, ma di ben due serial killer al femminile. Perché a livello femminile l'abbiamo un pochino... diciamo, abbiamo fatto Aileen Wuornos, che è stato interessante, passato difficile. E praticamente perché è molto interessante? Perché sono due personaggi diametralmente opposti. Un personaggio che ha sofferto, adesso vedrete, con Milena Quaglini viene quasi da empatizzare un po', perché gliene succedono di tutti i colori. Veramente, la povera Milena Quaglini sembra sempre che trova, che fa, che dice, poi alla fine si trova sempre in situazioni assurde. E poi c'è la saponificatrice di Correggio, che è una delle vere e proprie serial killer. La nostra saponificatrice, lei chiaramente faceva i saponi con esseri umani, quindi insomma si capisce bene, adesso arriviamo bene alla storia. Che è un serial killer completamente diverso. È un serial killer bugiardo, lei è una serial killer bugiarda, nel senso che la maggior parte delle cose che le succedono sono cose che inventa. Non sappiamo molto della Cianciulli, Leonardo Cianciulli, la nostra saponificatrice di Correggio, non sappiamo molto. Uno perché il periodo è molto vecchio, lei nasce nei primi del Novecento, mentre nella prima metà del Novecento. Inoltre, lei è bugiarda, cambierà versione 180 volte, tantissime. Milena Quaglini invece no, è diversa, vive una vita di stenti, terribile. Quindi adesso oggi che facciamo? Oggi mi dovete seguire. Oggi non c'è niente da fare, mi dovete seguire perché io... E' come il Mostro di Firenze. Allora, però aspetta, il Mostro di Firenze era... Il Mostro di Firenze è terribile. A proposito, sapete che su YouTube ho messo il video del talk che ho fatto qua del Mostro di Firenze, e uno mi fa, certo però quando fai delle performance live, preparati, non sai niente. Tu puoi dire, ma la c'è la tua, tu è bossa. Io volevo dire al signore che mi sono letto i referti, però va bene, insomma, se lui ne sa di più proprio di tutta la roba. Non ho detto niente sull'orecchini. No, sull'orecchini oggi no, dovete sapere che io non posso parlare di crime, hanno detto per gli orecchini, perché sono una persona brutta, quando parlo di cose serie mi dovrei levare per rispetto. Insomma, mi arrivano dei commenti variopinti. La matita? La matita là mi davano proprio dell'omosessuale, a prescindere, non potevo proprio, però quella è un'altra storia. Sapete che faccio? Vengo vestito da burlesca la prossima. Crime burlescoso. No, comunque no, inoltre voglio dirvi una cosa, facciamo una cosa molto figa, perché non so se avete visto, adesso è uscita la puntata di Muschio Selvaggio, non so se c'è qualcuno che segue il podcast che c'è online, però c'è una teoria molto interessante di cui possiamo parlare, del fatto che c'è questo Bevilacqua, che è un agente dei servizi segreti americani, che ha fatto il Vietnam, che potrebbe essere, quindi c'è il collegamento con Zodiac, Zodiac, mostro di Firenze. Allora, io sappiate che con le informazioni che ci avevamo avuto fino ad oggi, non ci ho mai creduto che Zodiac fosse il mostro di Firenze. Con quello che esce fuori dalle ultime cose, perché è roba molto recente, in realtà ci sono dei collegamenti che sono molto belli, e vi giuro che se volete lo facciamo perché è veramente un trip mentale, cioè io ho perso due notti, perché quello che mi dice che non mi preparo, due notti ho perso per fare sta roba qui, nonostante sapessi la storia, però è interessante, però va davanti, però lo faremo, lo faremo. Allora, partiamo subito dalla saponificatrice di Correggio. La saponificatrice di Correggio nasce ad Avellino, ha un'infanzia secondo lei difficile, nella realtà non si sa bene, perché c'è una cosa strana, lei quando starà nel manicomi, i vecchi manicomi per i criminali, racconterà di, creerà un suo memoriale, adesso. La Cianciulli non è che ci avesse proprio delle capacità per scrivere 700 pagine del memoriale, in più cambia versione in continuazione. La Cianciulli è una bugiarda cronica, c'è un macello. Allora, praticamente, la Cianciulli nasce da una famiglia particolare, perché sembra che la madre, a 14 anni, sia stata violentata. Sia stata violentata. No, che ho fatto così sembra, che bello è stata violentata. No, intendevo... Sembra sia stata violentata. E che cosa succede? Succede che questa mamma si deve poi sposare la persona che l'ha violentata. Perché vi ricordo che stiamo, qui siamo fine 800, quindi si fa un matrimonio riparatore. Ricordiamoci sempre che la nostra società è, a prescindere patriarcale, patriarcale, ce lo dimostra anche la lingua italiana, è molto patriarcale, c'è questa roba qui. Non voglio fare una cosa, non è un trattato femminista, io sto semplicemente parlando della realtà, quindi... C'era il delitto d'onore fino agli anni 80, quindi, insomma, sta roba così. Quindi, che succede? Quindi parte già male la questione. E non si capisce bene se la Cianciulli sia figlia di questa violenza, o se sia una figlia successiva, perché la madre c'ha avuto altri figli prima. Non lo sappiamo, non si sa bene, perché delle informazioni danno per certo che è in un modo, delle informazioni danno per certo che è in un altro. Io vi dico che, secondo me, lei è postuma, ok? Lei vive postuma, perché poi la madre conosce il signor Cianciulli, con cui si mette insieme, ok? La Cianciulli dice che la sua infanzia è terribile. Lei era una bambina malaticcia, la madre non la voleva, si odiava, stava male, che lei addirittura ha tentato di togliersi la vita, non so manco parla italiano, due volte. Una volta la madre l'ha fermata e una volta si è rotta la corda. E lei si ricorda che quando la madre l'ha fermata, la madre le ha fatto capire che non voleva che stesse al mondo. Per lei sarebbe stato meglio se fosse morta. In realtà, chi si occupa della storia della Cianciulli ci dice tutta un'altra cosa. I tentativi di suicidio della Cianciulli arriveranno dopo l'arresto, quindi da adulta, dopo che era già la saponificatrice di Correggio. Quindi, come vedete, la Cianciulli di testa, adesso dobbiamo capire se è furba, ci sono dei problemi psicologici importanti, ok? Però una parte è molto furba, la Cianciulli veramente è furbissima, è furba, 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 soprattutto per il periodo storico. Pensate anche quanto è difficile per una donna mentire in quel tipo di mondo che viveva. È terribile, la Cianciulli è veramente terribile. Adesso switchiamo. Ciao Cianciulli. Ben arrivata Milena Quaglini. Milena Quaglini nasce nel 1957, quindi siamo in un periodo diverso, ok? Nasce da una famiglia modesta, però è una famiglia particolare, perché il padre è violento, chiaramente. È un violento. E infatti quando arresteranno Milena Quaglini, lei dirà che casa sua è stata una prigione. Milena Quaglini, contrariamente alla Cianciulli, ha davvero un passato difficile. Ha davvero un passato in cui viene massacrata, maltrattata. Quindi è completamente diverso, siamo ai due opposti. La Cianciulli invece, la facciamo la saponificatrice, faccio così che è più facile. La saponificatrice, chiamiamo saponificatrice e vedova nera, ok? La saponificatrice di Correggio invece, lei da bambina sembra che fosse molto amata dalle persone, dai bambini, fosse solare. E poi conosceva, io adesso non ho trovato bene le informazioni, però sembra che si sapesse anche roba sessuale. Che per il tempo, immaginate, state nei primi del Novecento, perché lei è del 1892, mi sembra, 92-95, non ricordo. Comunque lei praticamente, quindi, teneva a banco. Invece Milena Quaglini no. Milena Quaglini viene umiliata, distrutta. Anche la madre, che è succube del padre, la tratta male. È una figlia quasi non voluta. È una povera disgraziata, massacrata. E che succede? Che fa sta benedetta Milena Quaglini? A un certo punto trova un impiego. Trova questo impiego come contabile, perché lei ha fatto ragioneria, studia. e qui conosce Enrico. E qui sembra quasi una storia d'amore di quelle belle. Sembra quasi un film, perché conosce Enrico, che ha il doppio dei suoi anni, proprio il doppio, precisi. Lei ne ha 19, lui il doppio. E vivono felici. Ma sono veramente felici. Lei, che ha sempre vissuto in una famiglia prevaricatrice, che la umiliava, che la faceva sentire stupida, trova finalmente una famiglia, una persona che lo ama. Che la ama, sì, ciao. Che la ama. Ok? La ama. E quindi è bello. Vivono dieci anni incredibili. Però, piccola postilla, la famiglia non è d'accordo. Non vuole che lei si esposi quest'uomo. E ricordatevela sta roba, perché diventerà fondamentale. Quando Milena Quaglini tornerà alla nostra videopanera, tornerà a casa della famiglia per chiedere aiuto, verrà cacciata. Perché te la sei cercata. Perché che cosa succede a sto poro cristiano? Lui si ammala del diabete. Un diabete quello invalidante. Quindi lui rimane infermo al letto, diventa cieco, e dopo un paio d'anni muore. Milena, e c'hanno pure dei figli, hanno fatto dei figli, Milena è distrutta. Lui aveva una ferramenta, lei lavoricchiava, no? A certo punto si trova, cerca di portare avanti sta ferramenta, sta cosa, e purtroppo va male. Perde tutto. Va in fallimento. Fallisce. Quindi Milena Quaglini ha fallito. Ci siete? Benissimo. Adesso rendiamo dall'altra parte. Allora, la nostra invece saponificatrice ha due personalità. Adesso mi devo ricordare i nomi. Una si chiama Norina, e l'altra Nardina. voi direte, perché sti nomi? Perché la madre la chiamava Norina, e il padre invece la chiamava Nardina. Ok? Ma voi direte, che c'entra? Leonardo, penso, Leonardo, Leonardina, e Leonorina. Non lo so. Però, la personalità di Norina, che è il soprannome che gli ha dato la madre, è cattiva, integerrima, risoluta. Mentre, quello che gli ha dato il padre, quindi Nardina, è amorevole. È un amore. Questa doppia personalità ci sarà sempre in La Quaglini, eh? Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre, sempre. Cianciulli, ecco, vedete? Bravo! Federico, sei veramente il mio orgoglio. Poi, sarà il baffo che ti blocca le idee, quindi, bravo, so contento. Allora, che succede? Scusami Federico, stavo scherzando. Non mi menare dopo. Allora, no. Quindi, hanno una cosa in comune, però. Anche la cianciulli, la saponificatrice, la famiglia dice, guarda, tu devi sposare quest'uomo. Lei dice, no, io quest'uomo non lo sposo e se ne sposa un altro. Guarda, oh, quanto so bravo che stiamo paralleli, eh? Stavo al matrimonio, stiamo andando bene. Quindi, che succede? La cianciulli, adesso c'è una bella differenza, perché la Quaglini è una vedova nera, una persona che ucciderà perché viene totalmente e completamente prevaricata. Lo sapete, non giustifico, cioè, lungi da me giustificare degli omicidi. Però ci sarà, adesso sentirete che storia che c'ha la Quaglini. la nostra, invece, saponificatrice è una furpetta. Io, la cosa che mi è piaciuta, che mi sono scritta, è una criminale imprenditrice. Lei uccide per i propri fini. Però, tutto parte dal bigottismo e dalla superstizione. Perché che succede? Si sposa con quest'uomo che la famiglia non voleva che sposasse, rimane incinta dodici volte. Otto bambini e li perde. Perde otto bambini, quindi ce n'ha solo quattro. Oppure, oppure imparata a contare nonostante abbia studiato psicologia. E che succede? Sapete qual è il motivo per cui ha perso tutti questi figli? Perché, secondo lei, la mamma al matrimonio gli ha fatto il malocchio. Le fa il malocchio. E quindi lei dice, no, io mi devo difendere dal malocchio di mamma. Comincia a studiare occultismo e magia nera. Ok? Quindi, entra in campo questa roba. Lei verrà considerata per tutta la sua vita una fattucchiera. Lei che ti può dire l'amore come va, come non va. È una maga. Quindi immaginate, lei ci crede, eh? Lei è proprio convinta di questa roba. La userà anche per difendersi dicendo che è stato il malocchio che l'ha fatta diventare un'assassina poverina. Lei, io non volevo, è stata una casualità. Adesso sentirete la casualità che faceva alle sue povere vittime. Comunque, torniamo dalla nostra Milena. Oggi, Madonna, perché mi sono complicato così la vita? Mi potevo fare affari miei, ne faccio una volta. Comunque, a un certo punto, come abbiamo detto, siamo i due mariti, no? Una, dodici gravidanze perse, colpa del malocchio. L'altra, marito che purtroppo è deceduto per malattia, incontra un altro, comincia a lavorare in un supermercato, incontra tale Mario, vabbè, conosce questo benedetto Mario. Mario è un uomo super geloso, ma è gelosissimo. Pensate che la fa smettere di andare a lavorare. Sapete perché? Perché se tu vai a lavorare, mi tradisci. Perché è scientificamente provato che una donna che lavora tradisce il proprio uomo. Quindi lei smette di lavorare. Fanno loro, lei accetta, accetta, e fanno, si sposano, è tutto un matrimonio super veloce, ma all'inizio tutto scricchiola. calcolate che Milena ha già il figlio Dario, che non si sa che si chiama Dario in realtà, Davide o Dario, non si è mai capito, alcuni articoli Davide, alcuni articoli Dario, vabbè, comunque, quindi, lei accetta sta roba, no, non sei tu Dario, tranquillo, sei troppo piccolo, stai tranquillo, tu sei un cucciolo, quello è un Dario, stiamo nell'anni 70. Quindi che succede? Succede sta roba che lui comincia a picchiarla, ma la picchia forte, ma la picchia proprio forte, forte, forte. Lei rimane incinta. Vi racconto due episodi terribili che succedono a Milena Quaglini. Sto Mario odiava il figlio che aveva fatto con un altro uomo, no? Quindi lo massacra, lo fa dormire in garage, lo manda a lavorare, lo tratta male, lo picchia. Un giorno lei, col pancione, ormai stava facendo proprio la gravidanza inoltre, si mette in mezzo, Mario, che è una personcina a modo equilibrata e per nulla violenta, prende la lancia giù dalle scale, lei cade, fortunatamente il bambino che ha, le bambine che ha dentro non succede nulla. C'è un'altra cosa però che succede, una volta la picchia talmente forte che le fora il timpano. Fermatevi qui. Ci siete? Adesso che succede? Voi direte, vabbè, lei a un certo punto prende e l'ammazza. No, è il 1995, arriva l'ufficiale giudiziario, va dalla nostra, Mario era un camionista, tipo, comunque scusa, aveva comprato il camion, non c'aveva i soldi, ha fatto i cambiali, non c'aveva i soldi per pagarli, vi ricordate, le famose cambiali che poi hanno distrutto tutto perché la gente ne pagava tante, quindi è successa sta roba, c'è gente ancora che ha i cambiali dell'anni del cucù. Che succede? Succede che sto Mario a un certo punto fa arrivare sta polizia, arriva l'ufficiale e perdono tutto, ignorano tutto, tutto, casa, tutto, si trovano da un giorno all'altro senza niente. Che succede? Lui dice, eh no, questa cosa non si può fare, prende e lascia Milena Quaglini, la lasciata propria, via, se è colpa tua, sei tu, sei tu che hai fatto le cambiali per camion, no io, via, la lascia, Milena è distrutta, adesso che faccio? Dove vado? Che combino? Va dalla famiglia, mamma, papà, mi riprendete? No, la sei cercata, t'attacchi. Fortunatamente trova impiego come inserviente in una palestra, ok? E poi, adesso questa qua ve lo devo dire, ma guadagna poco, guadagna molto poco, capito? Non ce la fa, non ce la fa proprio, calcolate, c'ha pure figli a carico, insomma, deve essere facile, incontra tale, giusto dalla pozza, in realtà, non era giusto dalla pozza poteva finire, era giusto nella pozza poteva finire, perché, dalla pozza poteva finire, perché praticamente che succede? Sentite sta roba che è assurda, lui è un uomo di 80 anni, ok? Vabbè, non lo so, che vuoi? Che famo? Ci mettiamo dietro Zelig, ridemoci, e qui c'è persona che è morta, gente che si ammazza, non è così, va bene, questa è l'ironia così, spero, YouTube, spero che non guarderete mai questo video, non vuoi guardare, brutto. Allora, praticamente, però sto dalla pozza e gli offro un lavoro, come badante, dalla pozza, sembra quasi una band dell'anni 50, gli dà la pozza e i ricchi e i poveri, comunque, chiede sta persona di compagnia, gli fa da compagnia e per aiutarla per i debiti, siccome il dottor dalla pozza è uno che ne sa, gli dà 4 milioni di lire, gli dice, guarda, così risani i tuoi debiti, come rimangono i due? Io te li deneraggo dallo stipendio mensilmente, dai soldi che ti do, ti riprendi, cioè, sembra una bella, cioè, oh, è una cosa buona, porca miseria, perché sto facendo sta roba, perché ho bloccato la cianciulli, perché sto a fare una vittima a uno e poi faccio la vittima dell'altro, ok. Allora, che succede? Un giorno, il dottor dalla pozza si sveglia e le dice, io rivoglio tutti i soldi indietro, adesso, ora, e poi tu qui, non sei qui solamente per fare le pulizie, per fare la badante, tu sei qui perché sei mia, la trascina in camera da letto, calcolate, Milena Quaglini era molto mingerlina, è vero che lui è un uomo di 80 anni, ma era nomone? E che è successo? No, che è? Il dottor dalla pozza essere ribellato, che ha fatto? Eh? Dottor dalla pozza, non stiamo dicendo nulla di male di lei, si calmi. Allora, praticamente, che succede? succede che prova a violentarla, parte la violenza, lei si difende, prende una lampada, boh, gliela dà in testa, lui cade, va a terra, comincia a perdere sangue, lei lo guarda, prende e scappa, scappa via, non ce la fa a vedere, che è successo? Che succede? Che lei torna tre ore dopo e lo trova che si è spostato, perché che è successo? Cerco di spiegarvi un po' la dinamica. Praticamente, sono in camera, le spacca la lampada e lui c'ha una porta di vetro e si spacca pure questa porta di vetro, ok? Quindi, lui, lei scappa via, ritorna e trova lui che si è trascinato dalla stanza, si è trascinato nel corridoio e sta in una pozza di sangue. Lei che fa? Chiama i soccorsi? Dice, una volta, non è come oggi che chiama il numero, chiama i tutti, chiama i soccorsi, adesso chiama il 113 e arrivano tutti, 112, scusate, lei chiamò il 113, ok, un po' di confusione mentale, vabbè, 113, 118, 112, quello che volete chiamare. Praticamente lo chiama e arrivano soccorsi e polizia. Che succede? Che, lei dice, guardate, dice, che è successo qui? Guardate, lui, praticamente, aveva prestato dei soldi a dei ragazzi, questi non gli hanno un'utilità e stonfete. L'hanno, può darsi che sono stati loro. Magari sono stati loro a fare sta roba. Però ci stanno delle cose che non tornano. Delle cose che non tornano non ci stanno perché per esempio si dice, lei dice che non lo vedeva da parecchio tempo, i vicini dicono che l'hanno vista. Insomma, c'è una serie di dinamiche, però, la casualità e il fado vuole che il colpo che ha ricevuto in testa corrisponda esattamente con lo stipide della porta. Quindi, questo era un uomo di 80 anni, a un certo punto non ce l'ha fatta, se è sentito male, ha sbattuto la testa, è morto. Incidente domestico. È salva. Allora, quindi, come vedete, il primo omicidio della Quaglini è un omicidio di difesa. Per l'ennesima volta lei nella sua vita ha trovato un uomo abusante. E, piccolo dettaglio, succederà sempre, sempre, tutti gli omicidi della Quaglini c'è un uomo abusante. Chiuda la porta. Tiro la chiave, ve lascio la curiosità e andiamo alla nostra saponificatrice. Perché la saponificatrice è una maledetta, è veramente maledetta. Perché praticamente che fa? Adesso prendo il foglio perché ci stanno tutti i nomi. la Cianciulli, allora, loro praticamente c'è, non vi ho detto questa roba, c'è il terremoto dell'Irpinia, no? Quindi si trasferiscono a Correggio, lei e il marito. Dopo un po' però le cose non vanno, si lasciano. Però la famiglia della Cianciulli sembra una bella famiglia. I quattro figli sono tutti bravi a scuola. Lei ha un super rapporto con l'ex marito, nonostante siano lasciati. Insomma, sembra tutto a posto, tutto tranquillo. E c'ha tre amiche del cuore. C'ha Clementina Suavi, che è una donna che non ha fatto, non c'ha avuto un matrimonio e accudisce i bambini delle mamme che lavorano in fabbrica o di quelli che lavorano nei campi. Poi c'è Virginia Cacioppo, un'ex cantante che è stata pure famosa, ne hanno parlato di lei in Libano, in Egitto. Ermelinda Faustina Setti, io mo' ve dico solamente dopo i nomi perché troppo lunghi, che è una donna del popolo, una proprio semplice, me lo permettete, sempliciotta, non si usa, però un po' semplice, una persona molto semplice, la casa della Cianciulli per queste tre donne diventa una sorta di rifugio, anche perché loro per il tempo erano considerate tre zitellone, come si diceva una volta, erano tre zitelle, quindi la Cianciulli c'ha una presa grande su di loro perché è una fattucchiera e quindi racconta di tutta la roba loro amorosa e quindi loro vivono per sta benedetta Cianciulli. Arriviamo alla prima vittima. Se siete deboli di stomaco, preparatevi, perché adesso arriva la parte terribile. Allora, se la prende con quella che abbiamo detto che era più sempliciotta, ok? È il dicembre del 1938, la Setti scompare dopo che ha detta una vicina, cioè guarda, io vado via qualche giorno, mi controlli i gatti, dice vabbè, tutto a posto, e alle amiche comincia a dire sta roba che ci affretta, lei ci affretta sta da andare via, quindi non è falso, lei lo racconta, perché le sta per accadere una cosa bellissima, finalmente, finalmente ha trovato un uomo, un uomo per lei, un uomo per lei, infatti comincia a fare tutte le robe strane, lei comincia a truccarsi, va dalla parrucchiera, che è una cosa che lei non faceva mai, immaginare pure a livello economico, ok? Quindi troverà sto marito del sud, ok? Che succede? L'ultima volta che viene vista è quando entra a casa della Cianciulli, come passa il messaggio? Guardate, io vado di fretta, vado a salutare la mia amica, dai ci sta, poi, chissà quando è uscita, chi ha vista, non si sa, che succede invece? È stata la Cianciulli che le ha fatto credere che c'è un marito per lei, non c'è nessun marito, è tutto finto, la Cianciulli si è inventata sta roba perché prima di ammazzarla si sta a lasciare la procura che le affida tutti i suoi beni, ecco perché prima ho detto che è una serial killer imprenditrice, si fa da tutti i beni, ok? Che fa? Uccide la povera donna, come la uccide? Dentro da bere, questo, tutti gli amicidi saranno uguali, quindi ve ne dico uno, i dettagli vi risparmio poi perché ve ne dico uno e basta, allora lei praticamente gli mette il sonnifero dentro una cosa che bevono, queste si sentono male, si addormentano, lei le ammazza con un'accettata, sembra finita, vabbè, dai ce sta, la punificatrice che faceva? A un certo punto che fa sta pora cristiana? Aspetta che ve lo voglio in ordine, gli amputa a sta donna le gambe all'altezza del ginocchio, poi prende un pentolone, mette sta donna sul bordo, sull'orlo, e la fa dissanguare, voi direte, a che serve sta roba? Adesso ve lo spiego perché tutto c'è una cosa, infine che fa? Prende una sega, gli stacca la testa, e poi la divide in due, due metà precise, ma il rito non è finito, non è ultimato, perché che fa? Accende uno di quei pentoloni che c'era una volta del bucato, una volta bucato col pentolone, ok? Ci mette sei chili di soda caustica e ci butta piano piano i pezzi del corpo di questa donna. Sapete che cosa dirà la domestica il giorno dopo? Leggo testuali parole. Abbiamo abbastanza sapone per i prossimi sei mesi. Puoi dire, ok, vabbè, è finita. No, la canciulli è terribile. Che fa? Mi sono preso la ricetta, se volete la potete rifà a casa. Recupera il sangue nei pentoloni, prende margarina, farina e cioccolato e ci fa torti e pasticcini. E a chi li dà? Come che schifo, André? L'hai fatto ieri sera, dai, smettila. Ma è un buon far puritano. È una cosa che fai spesso. No, però a parte gli scherzi, praticamente a chi li dà? Alle amiche, alle altre amiche. E la cianciulli comincia a diventare famosa vestiti dolcetti che sembra siano speciali. Ci hanno l'ingrediente segreto. Il sanguinaccio, il famoso sanguinaccio nasce proprio dalla cianciulli. Però quindi succede sta roba qui. Adesso rientriamo un attimo un point, facciamo un po' di psicologia. Prima vittima di una, prima vittima dell'altra. Milena Quaglini, completamente e totalmente distrutta dalla vita. La famiglia la ripudia, il padre la picchia, lei prova a farcela da sola, fallisce, non c'ha nulla. Un uomo 80 anni, vicido, prova a uccidere, a violentarla. Lei per autodifesa lo uccide. Il primo omicidio di Milena Quaglini è per autodifesa. Si sta difendendo. La cianciulli. La cianciulli è proprio il subdolo allo stato puro. Ce n'è solo una che è peggio di lei. Non so se una volta l'ho nominata che è la vampira di Barcellona. La vampira di Barcellona è peggio perché lei praticamente che fa? Piccola cosa, intanto abbiamo fatto il sapone, praticamente prendeva i bambini, i trovatelli, li uccideva, con i pezzi rimanenti, con i pezzi che non poteva utilizzare, ci faceva le minestre per gli altri bambini che aveva rapito. E col resto, con la pelle e la roba così, ci faceva i prodotti che vendeva ai ricchi. I ricchi si mettevano sui cosi, guarda che pelle luminosa che c'hai, e usavano i prodotti che erano degli esseri umani. Che è una cosa devastante, terribile, ok? Quindi forse dal mio punto di vista sotto questa roba c'è solo lei sopra alla saponificatrice che correggio, perché, veramente, pensate quanto è terribile il fatto che tu non solo uccidi, poi quella persona prendete il discorso per quello che è, poi quella persona è morta, quindi teoricamente non dovrebbe sentire nulla. La cosa più subito è che tu prendi il sangue e lo fai mangiare le persone, godendo anche di questa roba e in più t'appropriate tutti i suoi beni. Come vedete qui c'è proprio sadismo, psicopatia allo stato puro, la cianciulli non è una sociopatica, è proprio psicopatica, perché il sociopatico tante volte è disorganizzato, lo psicopatico no, è freddo, è calcolatore, non c'è morale che tenga, questa è una cosa in comune che c'hanno sociopatico e psicopatico, non ce ne frega niente dell'empatia, non ce ne frega niente della morale, è tutto per i miei figli e non c'è rimorso, anzi, se la cosa mi è andata bene io continuo ed è quello che farà la cianciulli. Milana Quaglini no invece, Milana Quaglini alla fine è disperata, ha perso tutto, immaginate lei ha perso tutto, ha ucciso quest'uomo, non sa più che fare, eh? vabbè però, è un omicidio, è un omicidio però quello, per autodifesa sempre omicidio, un omicidio poi, così, però comunque, allora, succede sta roba? vabbè, sono merita, vabbè, vabbè, bene, siamo d'accordo, però, è successo, però insomma, lo so, però, inizialmente non è una che vuole un uccidio, no, 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 inizialmente no, inizialmente no, 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 allora, quindi è andata così, adesso, a un certo punto, Milena ha perso tutto, siamo alla Quaglini, ritorniamo alla nostra vedova nera, e che fa? Che è disperata? Ritorna dall'ex marito, Mario, il camionista che la picchiava, una cosa che non vi ho detto, è che la Quaglini, in questo, tutto questo periodo, diventa un'alcolizzata, un'alcolizzata pesante, ok? E adesso, in questo periodo, mixerà tutto con gli psicofarmaci, ci siamo? Ok, un mix letale, allora che succede? Parte, ricomincia a prendere le botte a destra a manca, il mix dei psicofarmaci, e arriviamo al 2 agosto del 1998, i due cenano, non si parlano, probabilmente bevono tutti e due, sono ubriachi, lei aspetta che lui se ne vada a letto, lui va a letto, lei continua a bere, dopo un po' prende coraggio, prende una corda, una di quelle corde che stanno sulla tenda, avete visto quei cordoni da tenda, lo prende, e fa un primo cappio ai polsi di quest'uomo, lui non si sveglia, quindi questo ci fa capire già che non è proprio sobrissimo lui, ne fa un altro intorno al collo, ok? E li collega l'uno con l'altro, proprio l'ho in capretta, non avrei saputo dirlo meglio, quindi l'ho in capretta proprio, lui che succede? Che a un certo punto si sveglia e comincia una lotta furiosa, è una super lotta, lei, però più lui più lotta, più si soffoca, però è forte, lui è più forte di lei, ricordate che lei è andata in difficoltà con un uomo di 80 anni, a un certo punto che fa? Parte sta battaglia, lei prende una lampada, pa, gliela dà in testa, dice ha funzionato una volta, funziona a 6-2, invece no, non va, non ce la fa, non ce la fa, prende un portagioie, glielo dà in testa, niente, non ce la fa, quindi a un certo punto che fa? Comincia a tirare la corda, e lo soffoca, è morto, lei, adesso non sappiamo bene che succede nella sua testa, però lei racconterà che non voleva ucciderlo, racconterà che voleva spaventarlo, racconterà che poi lei è andata nell'altra stanza, ha preso le forbici per tagliare questa corda che non riuscirà più a liberare, perché lui intanto stava soffocando, ma non ha fatto in tempo, ci crediamo? Non lo so, io personalmente penso di no, perché se arrivi, allora, spaventare una persona, tu sai che questa persona ti picchia continuamente, ti picchia, sai che è più forte di te, sai che ti farà del male, se tu lo incapretti, questa persona ti renderà la vita impossibile, secondo me, un'intenzionalità, magari non è premeditato, non è un omicidio premeditato, quindi lei magari non l'aveva premeditato, magari, però, oddio, pure mette il coso ai polsi, intorno al collo, però, però, ok? però insomma, lei dirà sta roba qui, quindi che succede? Succede che è sconvolta, prende dei sacchi della spazzatura, ci mette il cadavere, pulisce la stanza in modo che le bambine non vedano nulla, lo prende, lo trascina sopra al balcone, gli mette sopra dei tappeti, no, io voglio dire, a gente che vede sti tappeti con il mucchietto sotto non dice niente, non se ne accorge nessuno, perché Milena Guaglini sarà lei che chiamerà i carabinieri, non ce la fa, lei aveva detto alle figlie che il padre era andato a fare delle commissioni che non sarebbe tornato, ma lei non ce la fa, non resiste, chiama i carabinieri, dice guardate ho ucciso mio marito, c'è una storia raccontata di consiglio di guardarvela all'intervista, c'è il maresciallo che racconta che lui, quello che ha ricevuto la chiamata, scusate, non è il maresciallo, il maresciallo è quello che verrà mandato, comunque chi riceve la chiamata chiederà ma dice ma lei ha dei figli? Sì, posso parlare con una delle bambine? Uno, sono due i motivi, uno per capire se aveva ammazzato tutta la famiglia, la seconda è per capire se è vero, la bambina va a vedere e dice sì, papà è sul palcone e lo prendono per vero, Milena Guaglini viene arrestata, viene arrestata e le danno 14 anni di condanna, però con l'attenuante dei maltrattamenti tutto questo, però c'è un avvocato molto bravo che gli fa prendere 6 anni e 8 mesi per semi-infermità mentale e viene messa ai domiciliari. Prima di arrivare la seconda vittima della nostra cianciulli continuiamo con questa perché è devastante. Allora che succede? Che lei, questi domiciliari, però lei è un'alcolizzata, ha bisogno di disintossicarsi, va in una clinica, in questa clinica però la cacciano, perché? Perché beve. E lei lì ha un amico, dice finalmente, no, un amico. Quindi, va a stare da st'amico, st'amico prova a violentarla due volte. Due volte prova a violentarla, infatti lei due volte viene beccata dai carabinieri che ha lasciato i domiciliari. È disperata. Adesso se mi ribeccano mi mettono in carcere. a che numero di uomo abusante stiamo? Padre, primo marito, no, brava persona. Secondo marito, sì. Vecchietto di 80 anni, sì. Terzo uomo, qui, questo qui a casaccio, sì. Quanti, quattro uomini. Grazie. Hai capito la mia difficoltà nel contare, grazie mille. Siamo già a quattro uomini. Ma la cosa non finisce qua, perché a quel punto la quaglini è arrivata la madre e fa mamma, ti prego, accoglimi, io non ce la faccio più. La famiglia la ripudia, no, vai via, la cacciano, la quaglini è disperata, ok? E a un certo punto trova un annuncio su un giornale. Ve lo leggo. 53 anni divorziato, cerca compagna per amicizia, convivenza e poi si vedrà. Berlusca non penso che avrebbe detto poi si vedrà, sarebbe andato subito al sodo, però questi sono altri dettagli. L'uomo si chiama, c'hanno tutti cognomi particolari, Angelo Porrello, che non è Porrello, è Porrello. Milena e lui si mettono d'accordo, lei gli deve affittare una stanza di casa, a poco, e salva. Che bello. Milena però, non sa ne cosa, il nostro dottor Porrello si è appena fatto sei anni di carcere, e sapete perché? Perché ha violentato le figlie. Le sue figlie ha violentato, quindi è appena uscito, quindi 53 anni divorziato, divorziato, c'è la legge, cerca amicizia, convivenza e poi si vedrà. Quindi è l'ennesimo uomo abusante. E arriviamo al 5 e 10, 5 ottobre del 1999, che la Quaglini sta su una regata bianca, una macchina, la vecchia regata, vi ricordate quanto è brutta, brutta, forse la ritmo è più, no, la ritmo è come si chiama, la duna è la più bruttissima, la regata sta su sta regata, viene fermata dalla polizia, lei gli dà la patente, che ha contraffato, perché vi ricordate, non è come adesso, lo dico, in realtà pure per me io mi ricordo, quella di papà, c'erano quei patenti, vi ricordate quelle là che c'era quella, che ne era carta, era tipo un tessuto che ne era tessuto, esatto, che quella là che ce l'aveva più aggiustata ci avvinceva un premio, perché erano tutte rovinate, non ho mai visto una giusta, sì? Vinto il premio, è un premio meraviglioso, che un giorno troveremo, ti facciamo conoscere Milena Quaglini, va bene? Così, questo è il premio, comunque no, che succede, che lei cambia il suo nome, ma se vedete che è contraffatta, la beccano, la rimettono in carcere, lei dal carcere che fa? Lei che fa? Praticamente, la nostra Milena Quaglini dal carcere, manda due lettere, Angelo Porrello, in una dove dice, è una lettera un po' amorosa, no? Bello, un po' picciocci, in un'altra invece dice, guarda, io avrei bisogno di recuperare delle cose, c'è solo un problema, Angelo Porrello è scomparso, e la famiglia ha messo l'annuncio che lo cerca, lo cercano, lo cercano, lo cercano, e il 24 ottobre, viene trovato morto nella concimaglia della sua casa, dentro la concimaglia, le case, una volta delle campagne, c'è una concimaglia, lui dentro, lo trovano dentro, ok? Perché Milena ha scritto le lettere? Per cercare di, devi stare, è ovvio, cerchi di devi stare, quindi, come funziona? Lei, viene violentata due volte di fila, da stuomo, alla terza, allora, la scena è un po' grottesca, io non so come sia andata, però, perché ci stanno un po' di cose strane, però, alla terza gli fa, perché non ci prendiamo un caffè? Si prendono sto caffè, e lei dentro, gli trita, insomma, o gli ha fatto un bibitone di caffè, non si sa come ha fatto, io non lo so come sia possibile, è una dinamica molto, adesso io ho fatto la battuta, in realtà, è una dinamica molto particolare, gli mette dentro, un mix di estordenti, questo beve, nonostante lui se ne renda conto, e sviene, lei che fa? Dopo che è svenuto, è svenuto, lei ha riempito la vasca da bagno, e ce lo mette dentro, lui muore affogato, è affogato, ok? Quindi, questa è la nostra terza vittima di Milana Guaglini, voi direte, come ho detto prima, un po' si empatizza con Milana Guaglini, l'omicidio è sempre sbagliato, io non giustificherò mai l'omicidio, però, allora, stai a casa, vieni violentata, e il secondo marito te è violenta, e il vecchietto a cui fa l'abbadante te è violenta, quell'altro amico te è violenta, quest'altro Angelo Porrello te è violenta, insomma, in più, ti giri verso la tua famiglia, la tua famiglia ogni volta che sbatte la porta in faccia, c'è un problema, quindi, qui, se voi andate a vedere i forum, la roba, il dibattito su ha fatto bene, ha fatto male, è enorme, sembra un po' la storia dei fratelli Menendez, il fratelli Menendez è una delle storie più, che fa più gossip in America, ci stanno sti due gemelli, due fratelli, che hanno ammazzato la famiglia, però c'è una parte del processo dove c'è uno che fa, stavo abusando di me, allora c'è la gente sotto che ha detto, è giusto, allora ha fatto bene, siccome abusava di lui, ha fatto bene ammazzare il padre, la madre, quindi, insomma, è una situazione un po' particolare, e li paragonano molto, anche se i casi sono completamente diversi, ok, per adesso torniamo alla nostra unica e inimitabile amica, adesso la nostra saponificatrice aveva il sapone per sei anni, dice vabbè, famolo per dodici, sei, dodici, diciotto, diciotto anni e stiamo a posto, la seconda vittima è l'altra amica, Clementina Soavi, è l'estate del 1940, l'altra era morta a dicembre 1939, qui è estate, praticamente, a certo punto, sta Soavi, racconta che ha trovato un posto di lavoro in un collegio di Firenze, ho dovuto leggere collegi di Firenze e mi ricordavo, mi veniva concimaglia di Firenze, ve lo giuro, era la prima, il collegio di Firenze, quindi è felicissima, no? Oh, a certo punto, però, l'ultima volta che viene vista, va a casa della Cianciulli, e scompare, e stranamente, prima di partire, affida alla Cianciulli i suoi mobili, che lei, la Cianciulli dice, guarda, tu mi vendi i mobili, Leonardo, e poi mi dai i soldi, chiaramente, la fine che fa la nostra Clementina, è la stessa, della sua compagna, uguale, amputazione, dissanguamento, soda caustica, sapone, capoccia tagliata, corpo tagliato in due, ormai è diventata esperta, al secondo tempo io è esperta, e c'è una cosa, i pasticcini, non la mia che ne so più due, è una sola, i pasticcini, gli danno tutto avvicinato, e diventa super famosa, questi benedetti pasticcini, terza vittima, 30 novembre 1941, a un certo punto, Virginia, che è la terza amica, dice, guardate che, c'è una persona dell'Italia centrale, che vuole prendermi con me, con sé, per, dei grandi magazzini, già avviati, bello, che bello, tutto a posto, dai figata, vado, stessa dinamica, ultima volta vista a casa della Cianciulli, e, l'amica scompare, ovviamente scompargono pure gli abiti, tutto quanto, voi direte, allora, sta Cianciulli, era furba, perché che faceva, le persone andavano, dalle altre persone, dicevano che se ne andavano via, una volta non era come oggi, vabbè, oh, mandami un messaggio, a quando arrivi, se sapeva sta roba, ok, siamo nel 1940, periodo pure particolare, a livello politico, immaginate tutto il caos che c'è, difficile, no? Pensate se pensano alla Cianciulli, e quindi, queste scomparse, dicevano, oh, non si sa più che figlio hanno fatto, però sto terzo omicidio, gli dice male, perché la famiglia, non si fida, la famiglia della nostra Virginia, e va dal questore, di Reggio Emilia, il questore di Reggio Emilia, comincia a indagare, e, si scopre, che ci stanno buoni del tesoro incassati, gioielli sotto un mattone, e abiti rivenduti dalla Cianciulli, è stata la Cianciulli, la Cianciulli viene arrestata, no, io, non ho fatto niente, è stato il malocchio che mi ha fatto mia madre, perché io non lo volevo fare, io non sono come voi mi dipingete, io non ho fatto, poi, a un certo punto gli dicono, c'è sta cosa del processo che è assurda, è vera, è vero quello che vi dico, praticamente, a un certo punto si pensavano a questa, poi ha fatto tutto da sola, ma come ha fatto, ha fatto tutto da sola, ma è difficile, lei si alza e fa, benissimo, portatemi una donna, una pentola, della soda caustica, e vi faccio vedere come faccio, l'avrebbe fatto davvero, non è come, una minaccia così, lei lo avrebbe fatto davvero, morirà, in un ospitale, un manicomio, un vecchio manicomio, psichiatrico, e cambierà un sacco di volte versione, e non si capisce molto della cianciulli, la cianciulli è veramente cattiva, è cattiva, è veramente distruttiva, immaginate quelle povere amiche, che non c'erano una persona accanto, che cercano qualcuno, che le possa, un pochino accudire, si sentono accudite, da sta donna, che è brava a parlare, addirittura una fattucchiera, una cosa così, un'amica, dove loro tutte si andavano a rifugiare, tutte uccise, diversa è Milena Quaglini, Milena Quaglini è il 2001, è la storia proprio diversa, perché è il 2001, c'è il processo di Milena Quaglini, Milena Quaglini taglia i lenzuoli, fa un cappio, e si uccide, Milena Quaglini è morta, suicida, questa è la fine, se ci pensate, perché ho preso queste due serie al killer, modus operandi, radici completamente diverse, modus operandi diversi, entrambi hanno fatto tre vittime, eh l'ho preso, cioè è una casualità, ma tre vittime, e c'è un finale diverso, la Cianciulli, che fino alla fine dirà che lei non c'entrava niente, che era una vittima, che non aveva fatto nulla, la Quaglini che non resiste, prende e si ammazza, come l'ha resistito con il suo marito, esatto, a un certo punto lei non resisteva più, Milena Quaglini, c'è una storia di una donna, che sta sotto uomini, uomini che la massacrano, in tutto e per tutto, quello che ha fatto poi è giustificabile? Chiaramente no, non si può giustificare, lo possiamo comprendere però? Sì, si può comprendere quello che è successo, io non so, se voi, io quando ho lavorato in ambito psicologico, ho lavorato con persone che hanno subito delle violenze pure, tante volte pure bambini, non lo racconto mai perché sta cosa a me mi spacca, io ho smesso di fare, vi dico sta roba, io ho smesso di fare la roba di psicologia per questo, perché emotivamente ero distrutto, io non vivevo più, c'ho in mente, purtroppo non ho la capacità, cioè tecnicamente, a livello tecnico sono molto bravo, senza spocchia, veramente sono bravo tecnicamente, il problema è la mia emotività, che avrei fatto del male alle persone, quindi ho fatto un passo indietro, ho capito che non era il mio, e io vi posso assicurare, c'è un caso una volta che è successo, che io seguivo il figlio, e un'altra persona, vabbè, seguiva il genitore, uno di questi due viene violentato, quindi si cerca di fare sta terapia, il genitore viene violentato, il genitore del bambino, allora faceva terapia, io facevo bambino, e l'altra persona faceva adulto, l'adulto viene violentato, quindi stavamo facendo, quindi questa qua, delle ripercussioni generali, immaginate il bambino, pure dentro casa come vive, e l'adulto, l'adulto a un certo punto, dopo una terapia, mezz'ora dopo si suicida, va degli ulivi e prende se in picca, questo perché, vi racconto sta roba, che poi è quello che mi ha fatto smettere, avete visto adesso faccio battute, roba così perché, faccio un po' come fa Dylan Dogg, che è l'indagatore dell'incubo, che sconfigge l'incubo con l'ironia, succede sta roba, perché una violenza, di qualsiasi tipo sia, è una cosa che ti segna per tutta la vita, se ci pensate, se siete persone che non hanno mai preso magari botte dai genitori così, uno schiaffo, quello schiaffo ti brucia, come se fosse qualsiasi, cioè, parlo di roba potente, non, ok, immaginate una violenza, dove viene violata la tua persona, la tua, è come, guardate, è un esempio un po' del cavolo, però è come quando ti vengono a rubare a casa, no, che tu vai a casa tua, che senti il tuo porto sicuro, una volta che ti hanno rubato, c'è quella sensazione che ti hanno violato, immaginate quando lo fanno col corpo, Milena Quaglini, le viene fatto continuamente, da tutti, tutti gli uomini che incontra, la violano, la violano in qualche modo, tutti hanno cercato quello, tutti, tutti, adesso indipendentemente dal fatto che magari le sei legasse a delle persone perché c'hanno bisogno dei soldi, questo non può giustificare una violenza sessuale, spero che siamo tutti d'accordo su sta roba, diverso è la cianciulli, la cianciulli ci prova proprio godimento, le piace sapere che i panni sono lavati con quel sapone che è pelle umana, le piace vedere le persone che si ingozzano con il sangue dei corpi che lei ha distrutto, ma voi rendete pure conto che fegato ci vuole per amputare i moncherini e vede un dissanguamento, io solo se penso al moncherino mi sento male, questa è una storia terribile, difficile, complicata, ma sono storie che vanno sapute, perché solamente conoscendole uno può anche un pochino tutelarsi, a volte sembra una stupidaggine, ma uno si tutela conoscendo alcune storie, l'essere umano purtroppo non siamo tutti uguali, non seguiamo tutte le regole, quindi io, e poi il finale, no? Scusate, è una cosa che volevo dire, una donna che non ce l'ha fatta, che si è tolta la vita, che ha deciso di chiuderla perché non ce la faceva più, perché non poteva accettare una cosa del genere, perché era piena di dipendenze, psicofarmaci, ha ucciso delle persone, eccetera, anche se si dice, c'è una parte che dice, vabbè, il terzo omicidio in realtà, sembra che lei abbia goduto, dicono, però insomma, credo che sia, anche se fosse, non credo che sia un godimento perché la persona è perversa di per sé, ma perché finalmente ha trovato un modo per difendersi, magari, tra questa e un'altra storia, la cianciulli invece ha un godimento proprio per l'uccidere, e gode nell'essere così confusa, così, quindi una è una storia di magia nera, superstizione, sadismo, l'altra invece è una storia molto più drammatica, parlo di quella personale, entrambe sono storie drammatiche, quella personale è molto più drammatica, immaginate tutti i figli, con delle persone che ti sbattono porta in faccia, e pensate alla sfiga di stavore cianciulli, hai incontrato un uomo che ti tratta bene, che ti fa sentire una principessa, e tu hai dieci anni che pensi, oddio ce l'ho fatta, sono libera, questo non mi prevarica, possiamo crescere nostro figlio, arriva una malattia e te lo porta via, è una storia brutta, terribile, non so bene come chiude questa roba, però, insomma, spero che questo crime vi sia piaciuto, non tanto per i casi, ma per le storie, spero che il parallelismo non sia stato troppo faticoso, anche perché le storie sono abbastanza, la cianciulli è facile, facile, è ammazzata tutta allo stesso modo, sono tre amiche, tutto l'arte, devi solo ricordare i nomi e date, insomma, è proprio semplice semplice, comunque, è questo, allora io, vi ringrazio, vi ringrazio per essere stati qui, io, come al solito, vi ringrazio, grazie per essere qui, grazie. 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 Grazie.